ciao sono svan e benvenuto bentornato nel mio canale e in questi video in cui ti porto ancora dei power bank do it yourself ormai ci ho preso gusto e veramente siccome ho tantissime batterie 18650 recuperate dalle batterie esauste dei portatili ho comprato su aliexpress questi questi power bank da auto costruire per poter utilizzare appunto le queste batterie queste celle 18650 in questo caso questi sono due modelli praticamente identici precisi si chiamano l8 1 nero e 1 bianco che alloggiano 8 batterie 18650 e tramite il mio caricabatterie l'ikstar vc8 riesco a scaricarle ricaricarle e testarne la reale capacità e perciò cestinare quelle vecchie non più funzionanti uno degli degli utilizzi di queste batterie è proprio quella di poter essere poi riutilizzate per piccoli progetti fai da te oppure proprio per alimentare dei dispositivi in questo caso vengono molto molto comode per questi power bank per l'installazione non c'è bisogno di fare nessuna saldatura perché sono presenti le classiche molle per incastrare batterie un po' similari a quelle che si usano con le batterie stilo e mini stilo e in questo caso questo poi una volta installate le batterie andranno chiusi con le sei vitine che sono già in dotazione gli danno anche il cacciavittino la ricarica di questo dispositivo ci sarà la possibilità di farla sia col caricatore in porta micro usb oppure con la type c è dotato ovviamente di due led per fungere anche la torcia e a due porte usb auto 1 e la auto 2 per alimentare appunto i vostri dispositivi una volta state le batterie premendo il tasto che sembra un lampo il display a led vi indicherà lo stato di carica delle batterie io le batterie quando le metto via le metto via se in modalità storage sono a 3,6 volte perciò lui rileva che sono a 58 per cento ma collegando direttamente il cavetto usb c con carica batteria da cellulare inizia subito la ricarica e pian pianino questa percentuale aumenterà la ricarica supportata da questo caricabatterie è fino a 2 ampere e mezzo se non ricordo male in entrata così come l'uscita è 5 volte 2 ampere e 100 forse anche l'ingresso e 2 ampere 100 infatti ho collegato il mio caricabatterie come sempre della xiaomi da 120 watt e sto sta caricando le batterie a circa 2 ampere vediamo se sarà possibile ricaricare i dispositivi anche quando è in fase di carica si sta uscendo la tensione anche quando il power bank è in fase di carica perciò fa anche da volendo da gruppo di continuità se volete alimentare per esempio dei dispositivi che hanno bisogno di tensione usb tipo per esempio il dash cam o per esempio telecamere di sorveglianza le misure sono 17,2 x 7,8 e di profondità e circa 2,4 ovviamente il peso poi sarà influenzato dalla tipologia di batterie che mettete all'interno vediamo cosa pesa questo una volta che ha le otto batterie inserite pesa circa 4 et e 36 perciò un bel mattoncino anche questo in base alla capacità di batteria che metterete all'interno vi darà una alta o bassa autonomia e questo perché con le batterie collegate in parallelo sommeranno tutti i mili ampere che queste batterie hanno perché la il voltaggio in uscita sarà sempre quello perché proprio sono caricate in parallelo queste per esempio vanno da 1300 a circa 1900 mili ampere ora sì più o meno sì perciò la loro capacità verrà comunque sommata e quando caricano le batterie si caricheranno tutte alla stessa maniera perché il voltaggio i 5 volt passerà praticamente anzi 4,2 volt passerà su tutte quante le celle e si caricheranno in maniera graduale e ovviamente il diciamo il trasferimento del voltaggio sarà sempre sulla cella quella che avrà più bisogno di carica una volta che la batteria avrà raggiunto la sua capacità passerà la tensione a quella che deve ancora caricare anche qui basta tenere premuto il tasto di accensione per circa 5 secondi potrete perciò attivare e spegnere i due led che sono presenti e utilizzarla come piccola torcetta in questo caso sono praticamente identici ne ho ordinato uno bianco e uno nero il costo di questi due dispositivi è veramente ridicolo costano praticamente spediti circa 3 euro e 54 euro poi dipende dal venditore vi lascio ovviamente il link in descrizione per l'acquisto direttamente su aliexpress e per questo video ragazzi veramente tutto come sempre io vi chiedo di lasciare un like se l'avete fatta ancora l'iscrizione vi fate l'iscrizione attivate anche la campanella così sarete automaticamente avvisati ogni qualvolta sarà presente un nuovo video nel mio canale e quando vi porterò altre chicchette come questa che appunto fanno sempre comodo da avere a casa se avete domande inerenti a questi power bank lasciatemele pure sotto nella sezione commenti io di solito rispondo sempre a tutti un saluto giovanni ci vediamo al prossimo video ciao